Avevano avviato, secondo l'accusa, un'attività di spaccio di stupefacenti all'interno del centro di accoglienza di migranti a Pergusa. Cinque extracomunitari sono stati indagati per detenzione spaccio di marijuana, ai quali se ne è aggiunto un sesto trovato in possesso di stupefacente. L'operazione, denominata Black Like, condotta dalla squadra mobile di Enne, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Enne, con la collaborazione dell'Ufficio Prevenzione della Procura Generale e Soccorso Pubblico di Enne e Catania e il Reparto Prevenzione e Crimiche nel Sicilio-Riccidentale. Durante le indagini, gli agenti della squadra mobile sostengono di aver accertato l'esistenza di un'attività di spaccio di marijuana, gestita e condotta da alcuni ospiti del centro di accoglienza. Gli stranieri attendevano i clienti, spesso anche minorenni, che a volte arrivavano a piedi in aperta campagna vicino al centro di accoglienza. E dopo aver preso l'ordinazione, consegnavano lo stupefacente che avevano nascosto nell'area della struttura o nelle vicinanze.